Mentre il mese di maggio ci porta all'attenzione il culto mariano, il mese di giugno è specialmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù e oggi ne celebriamo anche la festa. È una devozione che in passato era molto viva fra il popolo, oggi lo è certamente di meno. Ma questo disinteresse investe un poco tutto nella Chiesa, sono i tempi che viviamo e non bisogna sorprendersi della situazione in cui ci troviamo coinvolti. Il cuore, come sappiamo, è l'organo che ci fa vivere. Quando moriamo infatti si dice che il cuore ha cessato di battere. Il cuore, come diceva il grande pensatore Blaise Pascal, ha ragioni che la ragione non comprende. E noi proprio a queste ragioni ci rivolgiamo quando cerchiamo l'aiuto del Sacro Cuore di Gesù, sperando che nella sua misericordia sappia considerare con il suo cuore e non tanto con le giuste esigenze della sua giustizia le nostre colpe e mancanze. Come ho detto già in precedenza, è importante capire che siamo peccatori, che facilmente sbagliamo e che siamo sempre nella necessità di essere perdonati e di redimerci. Proprio pensando alle ragioni del cuore pascaliane, speriamo che la devozione al Sacro Cuore ci faccia prendere consapevolezza delle nostre mancanze e ci instilli la fiducia nella comprensione divina e nel conseguente perdono.